Ahooooh AC Milan! Ciao a tutti fratelli e sorelle bentornati e benvenuti Nuovo video sul canale Lorenzo Lollo Leggevo alcuni commenti Leggevo alcuni commenti riguardanti una notizia Che non c'entra col Milan ma c'entra anche col Milan Mi riferisco al fatto che ieri Pogba, ieri Pol Pogba Non so quando, non mi interessa delle cose della Juve Si è fatto ancora male E non sarà a disposizione Quindi da inizio anno Paul Pogba che con Lukaku Uno dei due comunque è il giocatore più pagato della Serie A Ha giocato 0 minuti E perché interessa a noi? Perché leggevo i commenti dei tifosi del Milan Sotto quella notizia che giustificavano l'acquisto di Pogba Ora ovviamente come sempre ognuno è liberissimo di pensare come la vuole Ma scusate ma sono due pesi e due misure fatti dagli stessi tifosi del Milan Da una parte abbiamo Pogba che ha giocato 0 minuti E ma Lollo la Juve fa bene a pagarlo così tanto Perché se non avesse problemi fisici Probabilmente sarebbe il centrocampista più forte della Serie A A parte che discutiamone se sarebbe il centrocampista più forte della Serie A Ma al di là di questo Raga allora vale per tutti Anche Orighi se non avesse problemi fisici Potrebbe entrare nei 3-4 attaccanti più forti della Serie A Ante Rebic se non avesse problemi fisici Che purtroppo ho avuto durante questa annata Poteva essere uno degli esterni d'attacco più forti della Serie A Ma è ovvio che quando tu vai a fare una valutazione All'interno dell'annata di un giocatore Ci metti anche il fatto che è stato disponibile O per quanto è stato disponibile Per quanto non è stato disponibile Ma al di là di questo C'è la cosa che mi fa ridere Che sembra che alcuni tifosi del Milan Siano subito pronti con la pala A prendere la M A buttarla addosso Quando si tratta dei nostri giocatori Invece quando si tratta degli altri Eh ma eh Lollo Ma la Juve fa bene a pagare 8 milioni di euro un giocatore Eh ma scusami Ok va bene ci sta È la tua opinione Ma allora vale per tutti Allora lo stesso identico discorso Lo devi fare anche per Orighi O per Rebic O anche tanti altri giocatori Che non sono a disposizione Che non sono stati a disposizione Per problemi fisici O lo fai per tutti O non lo fai per nessuno Non è che perché In questo momento le cose stanno andando male Allora lo puoi fare così Per spalare la M Sui giocatori del Milan E invece sui giocatori della Juve E altri giocatori va bene Questa è la mia opinione Fatemi sapere qua Sotto che cosa ne pensate Veniamo alle notizie Tra l'altro raga Io spero che questo Come ho detto stamattina Sul mio account Instagram Seguitemi anche lì Lorenzo trattino Basso Lollo Music Eh Io spero che questo febbraio Sia foriero Sia foriero di aria buona E ci porti un po' di cose positive Perché ne abbiamo bisogno Abbiamo bisogno di cose positive Abbiamo bisogno di un ambiente positivo Perché dobbiamo spingere i nostri ragazzi Perché poi soprattutto Domenica c'è il derby Che già come vi dico sempre Già il derby di per sé Mi porta delle agitazioni Mi fa salire l'ansietta Di qualche punto in più Immaginate un derby Visto come è andato l'ultimo derby Immaginate il derby di domenica E nelle condizioni in cui noi ci arriviamo Ragazzi Come vi ho detto in altri video Il derby di domenica è No 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 Non la La chiamerei un'occasione È l'occasione per dare Un cavolo di giro di vite E far sì che la nostra stagione riparta È come accendere il motore È come quando In un famoso film degli anni 80 Giri il cappellino Questa è una cheat Che non capirà Nessuno Nessuno Voglio sapere qua sotto Se qualcuno di voi Ha capito la cheat Del Quando mi giro il cappello È come se giro le chiavi del camion Vediamo se qualcuno di voi La conosce Però veniamo alla notizia Di cui vi devo parlare Con cui volevo iniziare questo video Ma siamo già a 4 minuti di video Ibra in lista Champions Mike sta tornando Ne abbiamo già parlato ieri Questa mattina La gazzetta dello sport in edicola Dice che nella lista UEFA Che il Milan consegnerà Oggi Dovrebbe comparire Anche Zlatan Supremacy Mike Mignan Può invece essere inserito In un secondo momento Solo ed esclusivamente Al posto di un portiere Già messo in lista Ovviamente ragazzi Eh Cosa vuol dire? Vuol dire che Se dovesse Andare in lista Zlatan Supremacy Deve necessariamente Uscire qualcuno Quindi stanno già fuori Tutti gli altri Tutti quelli che già erano fuori Nella lista di inizio anno Stanno fuori Oltre a quelli Se vogliamo mettere Supremacy Deve uscire qualcuno L'indiziato Secondo il Corriere dello Sport L'indiziato numero 1 Per prendere il posto Zlatan Prende il posto Di Fodè Ballo Tourè Non lo so se è vero Non so se corrisponde in realtà Ma questo Questo è Invece per quanto riguarda Il discorso Mike È completamente diverso Metto già le mani avanti Perché so già che questa sera Se dovessero uscire le liste E Mike Non ci dovesse essere So già che poi scoppia il putiferio Che la gente E poi qualcuno non ha capito Non è che se Mike Oggi non è nelle liste Mike non potrà essere Nella partita contro il Tottenham Mike potrà prendere il posto Di un portiere Che viene messo in lista Quindi se il Milan Mette in lista Tata Il Milan potrà Fino a 24 ore prima Non mi ricordo quanto Chiedere la sostituzione Del portiere Cioè quindi Togliere Tata E mettere Iron Mike Mignan Questa è la situazione Quindi se questa sera Quando usciranno le notizie Leggerete Gli articoli Che poi fanno la figura Degli articoli Che abbiamo visto In questi giorni Se leggerete Gli articoli In cui diranno Ah Mike Sta ancora malissimo Perché non è messo Nelle liste Nelle lista UEFA della Champions Voi che avrete visto Questo video Potrete dire No non è vero Perché in realtà Non funziona così Quindi facciamo anche Dell'aiuto Dell'aiuto sociale In questo video Ma come vi dicevo prima Il Milan Pare Secondo la gazzetta Il Corriere dello sport Scusate Pare ad un bivio A febbraio Un cammino impegnativo In campionato E una sfida Da brividi in Champions Febbraio però Può diventare Il mese Il mese Della resa Ma anche il mese Della rinascita Quello che vi dicevo prima Febbraio Abbiamo talmente Tante cose importanti In questo febbraio Che può essere O il mese In cui Noi si rinasce Rinasciamo Centimetro su centimetro Quello che vi dicevo ieri Oppure Facciamo una resa completa E poi sarà veramente Una navigazione difficile Fino alla fine Del campionato A rendere ancora più suggestivo Lo scenario del derby È la data Il 5 febbraio 2023 Giusto un anno dopo Quel 5 febbraio 2022 Che ha iniziato E ha segnato La clamorosa rimonta Del Milan Che era in ritardo Quando ci fu Il primo gol Di Perigis Perigis Ancora da recuperare La gara contro il Bologna La gara contro il Bologna L'asterisco del Bologna Alla fine Non si è Non è diventato Tre punti Poi Vi devo parlare Di una notizia Di mercato Cosa è successo Abbiamo un giocatore Che ci lascia Cioè Ci lascia Vai in un'altra squadra Ci mancherebbe Sky Marco Lazet Ci si trasferisce All'Atac In Australia Non so come si pronunci Con la formula Del prestito Allora ragazzi Io su Marco Vi dico la verità Ho sempre visto Le La possibilità Che diventi Un bel giocatore Perché comunque Ha fisico Ha tutto Però Sinceramente È un giocatore Che vedendolo giocare Ci si rendeva conto tutti Che era un giocatore Che aveva bisogno Di giocare I giocatori I giocatori giovani Raga I giocatori Quelli giovani Hanno bisogno Di mettere Tanti minuti Nelle gambe Quindi Se in prima squadra Non hai la possibilità Di farlo O gioca in primavera Oppure si va a cercare Un'altra destinazione Per giocare Un anno da titolare Meglio Parlo per la scelta Che avrei fatto io Se ci fosse stata La possibilità Magari l'avrei mandato A giocare In una squadra italiana Anche per averlo Sott'occhio Ma probabilmente La sua scelta Di andare all'Atac O all'Atac È per Insomma Avrà deciso lui Così Buon per Marco Lazet Ma andiamolo là A fare le sue Le sue cose Poi vi devo parlare Di una notizia Che è uscita questa mattina E il commento Che voglio fare è Ma chi cazzo è Cioè Prima di tutto attaccato Ma chi cazzo è Questa mattina Footmercato Footmercato Dice Il Milan potrebbe decidere Di intervenire Subito Nel mercato Nel mercato Degli svincolati Ingaggiando Mangala Ex City Esattamente E qua tutti quelli Che leggono Dicono Ma chi cazzo è Non lo so Non lo so raga Quando ho letto questa mattina Ho detto proprio così Cioè Non ho idea di chi sia Non me lo ricordo neanche Come giocatore del City Nel senso Non mi ricordo neanche Al su Alcune partite E quindi ritengo Che questa notizia Sia la solita Notizia ciclica Che quando finisce Il mercato Il calciomercato Invernale Per Vi ricordo tutti gli anni Fateci caso Anche quando è con l'estivo Poi per una settimana O per due settimane Continuano ad arrivare Notizie di calciomercato Di quelli svincolati Ne avessimo preso Uno una volta No forse sì ragazzi Forse Faccio un attimo Mente locale A parte il portiere Che abbiamo appena preso Ma mi ricordo Una volta Che forse era Nell'epoca di Galliani Non mi ricordo Che avevamo preso Qualcuno Qualcuno svincolato Vabbè magari qualcuno Di voi si ricorderà Lo scriva Lo scriva qui sotto Ma veniamo A quello che è Il titolo di questo video E cioè Vranx Scelgo te Milan Vranx Alla che si In lizza Per il derby Come riportato Dal Corriere dello Sport Che conferma Tutte le news Sulla formazione Uscita in precedenza Nel derby Contro l'Inter Mister Pioli Schiererà Kier Al centro Della difesa Quindi esclusa Escluso l'utilizzo Di Ciao Per il centrocampo Si valuta Con molta insistenza La presenza Di Aster Vranx L'unico In rosa Che ha Una vaga Somiglianza Con Frank Che si Questo Scrive il Corriere dello Sport Raga Io Credo che Oh attenzione Io credo che Il derby Come vi dissi In altre partite Io inizio a non prenderle Lo so che qualcuno di voi Storcerà il naso Io inizio a non prenderli I gol Magari non andando sotto I primi Il primo quarto d'ora O il primo tempo Di due o tre gol Inizio a non prenderli E poi vedo nel secondo tempo Cosa succede Come fai a non prendere gol Innanzitutto serve più attenzione Serve che non ti tirino in porta Serve che rimpolpi il centrocampo E serve che tutti i giocatori Appunto dal centrocampo in giù Giochino con molta più attenzione Che non lasciano andare Quelle sbavature Che abbiamo pagato Incredibilmente In questo gennaio La palla La solita palla Dietro la schiena di Davide Quella palla lì Non deve partire Tanti mi avete detto Avete commentato Nel video post partita Ma cavolo lollo Davide Si fa sempre fregare Perché la palla lì Arriva dietro Sì ma raga Ma quella palla lì Non deve arrivargli Cioè Non so se mi spiego Cioè quella palla lì È una palla Che non dovrebbe neanche Arrivare in quel modo Non arriva in quel modo Se tu hai un centrocampo Che sta magari più attento Alle palle che passano E quindi Impedisce ai giocatori Di fare quel tipo di lancio Derby Lecce Lazio Sassuolo Sempre quella palla lì Quella palla lì Dietro i nostri I nostri terzini larghi In difesa Palla dietro E giocatore che taglia E ci frega Fate mente locale Guardate che ve l'ho già detta Questa cosa Ma fate mente locale Che vi ricordate Abbiamo preso un sacco di gol Così Non è per parlare male Di Davide Raga Semplicemente per farvi capire Che è una situazione tattica Che penso che Mister Pioli Stia affrontando Perché è una cosa Che è successa più volte Quindi penso proprio Che verrà affrontata Bene ragazzi Questo era tutto quello Che volevo dire Ci vediamo oggi Dalle ore 17 Alle ore 18 e 30 In diretta Su tutti i canali ufficiali Della Cmilan E basta Ieri ho fatto Uno dei miei primi Shorts Qua su YouTube Non lo so YouTube mi dice Di fare gli shorts Io non capisco Però Non ci ho capito tanto Però faccio gli shorts Che tra l'altro Devono durare meno di un minuto Come cazzo faccio A parlare io in meno di un minuto Che faccio i video Da 25 minuti Però vabbè Ragazzi vi saluto Ciao CacciaVit Forza Milan Fate via il Cielo Inter Ci vediamo Dalle 17 Alle 18 e 30 In diretta Su tutti i canali ufficiali Della Cmilan Ciao